Pace e bene. Vegliare deve essere una faccenda maledettamente importante per un cristiano. Se ne parla nel Vangelo di Marco di questa prima domenica di avvento, ma se ne è parlato a più riprese anche nelle ultime domeniche dell'anno liturgico, a tal punto che non dovrebbe di per sé suscitare in noi atteggiamenti di ansia, affanno o peggio di paura. Anzi, dovrebbe aprirci con stupore e gioia al futuro. Un futuro che non siamo noi a declinare e a definire nella nostra piccolezza e imperizia, nel nostro sguardo molto corto e miope, piuttosto lasciando libero Dio di esserci, come più gli pare e piace, all'improvviso, nei momenti meno scontati e prevedibili, anzi dove noi proprio non ce lo aspetteremmo, oltre le nostre definizioni di comodo, in maniera sorprendentemente più ricca di quanto i nostri bisogni esigerebbero. Ma tutto ciò non rivaluta forse tutta la nostra vita, niente di essa escluso? Se egli arriva all'improvviso, senza preavviso di chiamata, né mandandoci il link per connetterci all'ora giusta, allora ogni momento è buono per diventare porta di entrata per l'avvenuta di Gesù. Buona domenica!